La 72esima edizione della cavalcata sarda in programma a Sassari sabato e domenica prossimi è stata rinviata al fine settimana del 3 e 4 giugno. L'amministrazione comunale ha optato per questa scelta vista l'altissima probabilità di precipitazioni. I preziosi abiti indossati dai componenti dei gruppi infatti rischiano di rovinarsi per non parlare della sicurezza dei cavalli e di cavalieri e amazzoni che ne risulterebbe compromessa. La cavalcata sarda non è una manifestazione legata allo scioglimento di un voto religioso che deve tenersi necessariamente in una determinata data. Perciò, ha spiegato il sindaco Nanni Campus, abbiamo pensato che fermare l'organizzazione oggi e indicare da subito una nuova data permette di limitare i danni economici che subirebbero esercenti, ristoratori e tutte le altre attività interessate, compresi i venditori ambulanti. Far affrontare ai gruppi un viaggio per poi non poter sfilare, ballare o cantare non è giusto né corretto nei loro confronti. È la prima volta che la festa della bellezza viene rinviata a pochi giorni dall'evento, ma l'amministrazione e il direttore artistico Giuliano Marongiu sono al lavoro per verificare la disponibilità dei gruppi per la nuova data. Nel caso non fossero disponibili, si attingerà all'elenco delle numerose richieste di partecipazione arrivate nei mesi scorsi. Grazie.